Ciao, sono Leonardo Ghidetti e sono l'amministratore delegato di OnSizeSRL. Collaboro da un paio d'anni con Prologue per la Torifonia e lo faccio per un semplice motivo, che ad oggi è l'unica struttura in Italia che come base su cui fondare la propria filosofia ha il cliente e non le aziende fornitrici di servizi. Qualsiasi persona che abbia sempre magari avuto la voglia di approcciare in questi settori ma per un motivo o per l'altro ha sempre desistito, Prologue per la Torifonia è la struttura ideale con cui iniziare, prendere conoscenza e crescere all'interno di questi settori.